Il film più bello? Diciamo Dottor Zdipaco. Forse l'ultimo film di Raul Bove. La vita è bella. Difficile scegliere, forse ultimamente in to the wild. A giociare, perché sono giociare io. Perché dimostra come la gente può amare e come il cuore può anche tutto nella vita. Genere? Di film preferito. Di? Di film. Sono tanti film che sono. Genere? Tipo horror, giallo? Di film che fa un po' divertire, l'umore. Qui rammatico o film di avventura? Historico. Filme romantiche un pochino. Quello del Dottor Zdipaco. Perché parla molto di politica. Il mio attore preferito è Harrison Ford. E mia attrice preferita... No, mia attrice preferita è Angelina Jolie. Allora, attore è Ed Norton. Adesso non mi viene come si chiama. Eh, Sofia Loren. Di film? Allora, perché amo il Dottor Zdoro.